in che cosa ti riconosci del piccolo nicolas non mi riconosco in moltissime cose perché lui fa veramente un sacco di marachelle io invece ne faccio molte meno quindi non siamo troppo simili ma ti piacerebbe vivere avventure come quelle che vive lui anche senza marachelle conoscere nuove persone nuovi amici situazioni diverse no no perché mi piace molto la mia vita e quindi non mi importa di cambiarla ecco un'altra domanda ti piace leggere invece e se sì che cosa ti piace leggere quale sono i tuoi autori preferiti sì mi piace leggere però principalmente mi piace leggere i fumetti quindi leggo quasi solo fumetti